Bella raga, ciao a tutti dal cumendone veneziano, c'è molta tensione per la rivincita contro Miluoki Siamo al terzo posto della Eastern Conference con 10-3 Ma adesso la rivincita contro Abdul Jabbar Andiamo ragazzi E i Reial, neanche vai E niente, è così insomma Ci hanno fatto Erculo Vai raga, andiamo Abbiamo 8 minuti per non fare sempre punteggi mastodontici E andiamo ragazzi, stavolta siamo in casa nostra Allo United Sound of Chicago In un inglese barra americano con una slang meravigliosa Vai, andiamo Voglio solo gli Alan Parsons Project E purtroppo non c'è, peccato Ta-na-na-na 11-1 Miluoki, record veramente potente Ma quest'oggi li toccheranno solo le sconfitte Vai raga Andiamo a spaccare E inizia Subito Molto bene Diciamo che l'inizio è perfetto Un inizio che è degno del miglior La 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 Mettiamo subito per Dennis Rodman Il verme No tutti di là però No, da solo Bravissimo Dennis Eh ragazzi I Bulls Vogliono fare un tutt'altra partita Rispetto a quella come i Loki Che in realtà Non è stata neanche brutta No Rodman però Yes A livello di punteggio solo Che purtroppo È la dimostrazione che L'innominabile Più soprattutto Abdujabar e Alan Ha fatto la sua partita Ma insomma Nella media Sempre da fenomeno e tutto La 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 Eh no Allora hanno una capacità Hanno una capacità Nei rimbalzi offensivi Che è devastante Riders the quick shot Niente Attenzione Bravissimo Dennis Scodi Scodi Dennis Mamma mia Inizio difficile Scodi E ancora Carter Mamma mia Che inizio di Carter Due rimbalzi offensivi pesanti Eh ciao Subito fallo Comunque stiamo 4-8 Miluocchi 5-4 Chicago Con un Jordan Devastante Addirittura 3 triple consecutive 3 triple consecutive Alla fine del primo quarto Siamo la Siamo la Comunque Comunque partita è veramente Combattuta Siamo ancora sui punti Siamo ancora sui medi alti Siamo una squadra Della puntigi alti Veneziano Prova il missile Sola Rete Oggi La tre Siamo mostruosi Con tutta la squadra E' questo che ci sta dando Il boost Per vincere Eh però No un attimo Il luocchi Chicago E così Yes Mamma mia Ogni tiro Un morto Raga È davvero una difesa scandalosa Però Missile Eh non è sempre Natale Roba nostra Veneziano ancora da casa sua Questo però Sono l'ete Mamma da tre Non c'è senso oggi Entrano tutte da tre Dove è Rotman Perché Rotman va là Veneziano in condizioni A di poco Scene Eh beh Troppo lontano Ho sbagliato Anche questa Stiamo mettendo Qualsiasi cosa Adesso E mi luocchi la mente No questo non può entrare Ottimo 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 Però sono Strasoddisfatto Della prova di forza Di Chicago E' chiaro che non è ancora finita Ma addirittura Due quarti Tutto secondo tempo Ma la reazione dopo la sconfitta Mi luo Chi c'è Hey again everybody I'm Ernie Johnson Jack Chicago holding the upper hand After the first two quarters Veneziano 13 punti Io non credo 13 assist Sono un po' troppi Non è un vaneggio No scusate un attimo Sono curioso Veneziano 8 assist Possiamo giocare? Non me ne frega niente Dai Nooo Ecco il vaneggio Uh Meno male Fallo sul Q Di Abdujabar E qua ha forzato il Q MJ Bellissima Ancora stoppata Stiamo a 5 secondi Non un grande attacco Per Chicago Veneziano 3 punti Possibile Sospensione No il missile Ti prego Ok Relax Lo United Center Vuole la rivincita Questa partita La vedremo sicuramente Anche i playoff E' un genio In linea dei liberi Yes Fallo di scuri Niente Questi qua In area Sono comunque Mostruosi And cutting into the lead With the big One-hand throwdown That's how you get your team Back into it Mr. Moves Passes to Rodman Bravo Rodman Bravo Rodman Il canestro Il canestro è una vasca da bagno Niente Nei ribalti offensivi Sono maestri Quelli di Miluoki Noo che brutto attacco Che brutto attacco Che brutto attacco Ragazzi siamo nella cacca Da più 13 A meno 3 Guarda va Guarda che è dormita Dai raga Perché sono un po' Impaurito No MJ la sbaglia Aiaia Questo è bruttissimo Questo errore è pesantissimo Eh vabbè Ma porco Dio Te le mettono tutte Stiamo rischiando adesso Incredibile Miluoki E' innominabile Maledetto Quarto quarto Da dimenticare Punteggio anche bassissimi Ho fatto pochissimi punti Ti prego come Yes Yes Mamma mia Quante triple di Veneziano oggi No Porco Dio Posso sbagliare così in difesa Ho bisogno di MJ Ho bisogno di MJ Bravissimo MJ Mamma mia Michael Jeffrey E' importantissimo Sto libero Yes Partita tiratissima Come sempre Ma non può Metterle tutte No No Però Maneggi così No Perderla così Sì no Però Ma porco Dio In Niente Inmarcabile E' difficile Che culo Che culo Che culo Che culo Incredibile Più 13 La andiamo a perdere un'esimilocchio in un squadrone il giocatore stramarcato si mi sbaglia anche questa alla fine e va bene e va bene ragazzi andata finisce qua la partita disastro assoluto ultimo quarto da dimenticare certa sconfitta consecutiva per Veneziano dopo un grande inizio serve a poco adesso va per fallo MJ ma se stessi alle ne sbaglia due è già un miracolo se ne sbaglia uno incredibile sono straincazzato non meritavo mai di perderla l'ultimo quarto che non ho capito no va bene ma no basta con questi falli non ne frega niente ormai finisce qua finisce qua ci rivediamo come il luogo è un conto aperto finisce qua finisce qua finta pesante perché la terza per il come non maniamo tanto cosa mi frega il tabellino abbiamo perso cagare ok adesso abbiamo piston vittoria ma assolutamente no Miami vinta sconfitta con Charlotte vittoria con Portland e siamo contro Golden State 13-5 9-9 vediamo le classifiche siamo sempre terzi anzi no no mi luocchi devastante mi luocchi qualcosa di inarrivabile purtroppo vabbè adesso tocca a noi però ecco il Golden State voglio la vittoria a San Francisco ok è molto Stephen Curry Curry ok ok vai il mitico Curry adesso voglio un Chicago incazzata eh però guardalo Golden State veramente record molto molto brutto Oakland ok vai 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 con la maglia rossa siamo i numeri uno MJ subito no 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 questa la vinciamo di rabbia definire la nostra piccola serie negativa grande Rodman scuoti yes partenza rabbiosa di veneziano no no io credo che è probabilmente la singola grande opportunità di crescita una delle cose che succede è che il gioco si ferma per i secondi giocatori mj è un po' arrabbiato la prossima scuola sconfitta con miluoki non l'accetta da una squadra forte come i Bulls per quanto miluoki ha un record devastante intanto 6-0 no è finita la pacchia 8-0 partenza rabbiosa ragazzi per il momento tutto alla grande 5-3 Chicago 2-8 Golden State che sono lontano ricordo della squadra che ha dominato la Lega negli anni scorsi mamma mia che carry veramente malissimo che poi c'è Steve Care nella panchina care contro care ma anche il buon Steph è veramente il disastro da 3 malissimo finora adesso vediamo in registrazione ma un attacco disastro mamma mia ragazzi capisco il 9-9 nel record scodi yes no no proprio disastro 0-9 addirittura da 3 per una squadra che ha dominato la Lega da 3 non esiste Golden State non esiste yes solo rete noi da 3 cominciamo veramente a dominare ma il Golden State è veramente un momento difficilissimo ah c'ho provato ah c'ho provato ok nooo Scotti eccolo qua il primo bombo eccola qua rispondiamo vai abbiamo un gran vantaggio non possiamo buttarla via sì bravo bravo sì bravo bravo boom abbiamo già bene e inizia il terzo quarto e con la seconda parte ci siamo vedremo se questo gioco diventa la route che è preoccupato guarda che bravo che un gioco che abbiamo visto da Michael Jordan che un minuto era in defensa nelle prime due quartiere solo disrupendo tutto beh era un'attività e l'anticipazione adesso comincia il momento con il contrario dell'inizio stagione bene all'inizio cominciamo a perdere colpi dopo non diamo possibilità a rientrare a Golden State per piacere per piacere grazie yes Golden State comunque troppo brutta per essere vero in attacco ma che roba Kerry veramente disastroso e poi il virtuoso che è Lebron James che può prenderti con la scuola con la scuola con la passione è veramente nulla di scuola ballo va bene va bene che brutto un battone Carter buono ma prossimo anno vediamo di comprare qualcuno non facciamoli entrare non svegliamo Curry MJ per chiuderla deve essere una bella mazzata eh vabbè perché tutte le azioni più belle le faccio off camera Curry bravo come metti la pe... oh non ne mette una e la vai thick and kume ragazzi si festeggia grande vittoria soprattutto MVP veneziana ragazzi il kume ha vinto il premio MVP yes e oggi veramente partita importante la squadra agito bene con una squadra comunque che ha un record 9-9 quindi alla nostra portata bello bello ormai insomma gol in steta è avuta abbastanza male lo faccio lo faccio levare la faccia a Golden State ah qualcuno è esagerato da fare un assist impossibile stiamo dormendo leggermente stiamo regalando punti bravo comunque la win è il terzo migliore realizzatore da tre come percentuale quindi bravo la win non o pretty much bello va bene dai finisce qua lasciamo scorrere il tempo buona buona vittoria finisce qua ragazzi yes 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 torniamo alla vittoria very good tabellino Jordan 22 2-1 veneziano 15-2-16 ragazzi parli recuperati anche 2 14-4-1 carter 11-5 care 11-5 pippen 10-3 pippen male rodman 9-10-3 partita tranquilla dominata dal cuba ragazzi e bravo cuba ogni tanto viene fuori il vero cuba ok adesso la prossima la prossima la prossima la prossima la facciamo con Oklahoma e ci guardiamo tutti i tabellini e le classifiche adesso allora sì andiamo con calma se no non capiamo portland non ho voglia sconfitta con portland non bene vittoria con il sacramento vittoria con i Memphis Golden State vinciamo ancora perdiamo con Miami ai 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 vinciamo Toronto Atlanta vinciamo ancora e la prossima con Oklahoma perfetto la prossima sarà con Oklahoma e Orlando sicuramente bene andiamo a vedere la classifica ci vede secondi 21-7 bene Miluocchi 26-1 penso che inizierà la Eastern Conference raga un saluto la Ucumendo veneziano ciao